3 curiosità che dovresti sapere sui tucani Uccelli rumorosi Emettono una varietà di suoni per interagire con l'ambiente e altri individui della loro specie Dieta frugivora Si nutrono principalmente di frutta, ma alcune specie si nutrono anche di insetti, piccoli vertebrati e uova di altri uccelli Nidi nelle cavità degli alberi Trovano cavità naturali negli alberi per deporre le uova e allevare i loro piccoli Iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi video